La CISL Sarda chiede un immediato e urgente confronto con l'assessore regionale alla sanità. Ce ne parla nel servizio Maurizio Ciotola. Il segretario della CISL Sarda, Perluigi Ledda, sollecita un confronto con l'assessore alla sanità Armando Bastoazzi e con la presidente della regione Alessandra Todde. Un incontro in cui la CISL vuole essere parte attiva con diverse proposte operative al fine di migliorare il sistema sanitario e il welfare in Sardegna promuovendo un modello di governance innovativo e inclusivo, afferma il segretario Ledda. Tra i punti anche la necessità di rivedere e verificare l'intesa del 2005 sul costo istituzionale della sanità Sarda onde superare i vincoli esistenti e ottenere maggiori flessibilità e risorse aggiuntive. Per Ledda le liste di attesa possono essere ridotte e annullate solo intervenendo anche sulle condizioni di lavoro e le retribuzioni delle professioni sanitarie. Un'attrattiva che porti a un incremento del personale stesso ad oggi veramente carente. La CISL sempre chiede investimenti in moderne attrezzature e non di meno nelle infrastrutture sanitarie con la ristrutturazione di quelle esistenti per poter poi offrire ai pazienti, parenti, al personale, ambienti sicuri e funzionali. Per quanto riguarda la revisione della governance sanitaria è necessario stilare un roadmap chiara e credibile sullo sviluppo delle nuove strutture sanitarie così come deve essere rivisto il modello tra strutture centralizzate e periferiche. All'Ares è contestata la moltiplicazione di strutture territoriali che replicano la centrale con dispendio e inefficienze evidenti tra cui la necessità di accentrare acquisti e assunzioni sotto un'unica funzione centrale predisposta ad hoc. La CISL propone anche di aggiornare e incrementare le risorse per i servizi alla persona, anziani, quelle all'inclusione sociale e rivedere il reddito di cittadinanza con un focus su politiche attive per combattere la povertà.